I nostri risultati di partenza sono fra i migliori in Italia, anzi Arezzo-Arezzo nel 2015 è stata la migliore d'Italia come risultato nel piano nazionale esiti. Il 2016 è stato l'anno di introduzione della tanto chiacchierata riforma sanitaria. Arezzo-Siena e Grosseto sono dal marzo 2016 unite sotto l'unico cappello dell'ASL Toscana Sud-Est. Un cambiamento non solo sulla carta ma anche e soprattutto sull'organizzazione dei servizi sanitari. Tra le questioni più dibattute anche negli ultimi giorni del 2016, l'impoverimento degli ospedali più piccoli. Per quello di Bibiena c'è una presa di posizione forte della funzione pubblica della CGL secondo la quale in base ai patti firmati dai sindaci e dal direttore generale, in questo ospedale alcuni servizi dovrebbero subire delle trasformazioni come il reparto di medicina e il possibile impoverimento del pronto soccorso. Enrico Desideri, direttore generale, risponde così. So che c'è stato tra l'altro un incontro proprio pochi giorni fa. C'è stato un bel incontro, davvero molto importante, lungo di quasi tre ore con il comitato e con i nostri professionisti abbiamo esaminato le loro paure, preoccupazioni e devo dire che sono cittadini che difendono la loro salute, che difendono i loro anziani, che non hanno voglia di perdere quello che di buono c'è a Bibiena, che c'è tanto di buono a Bibiena. Hanno capito, ci hanno ringraziato uscendo, che non è certo nostro interesse e neanche sarebbe sensato ridurre la risposta in un'area che francamente ha problemi di viabilità. Noi speriamo tutti che si migliorino, ma oggi ci sono. E ne dobbiamo tener conto perché la salute dei cittadini si tutela anche tenendo conto dei limiti di viabilità. E poi, insomma, lì il pronto soccorso non solo non si riduce, ma lo stiamo inclementando. La chirurgia, gli abbiamo fatto vedere i dati, non solo non si riduce, ma sta aumentando i numeri, i numeri incontestabili ci dicono che sta migliorando, aumentando per complessità e numero. Il tema della fusione delle asle e il tema della fusione dei distretti non ha niente, ma proprio niente da vedere con come organizziamo i servizi sociosanitari. Perché noi non possiamo permetterci, per quello che ho detto prima, un allontanamento dei servizi. La centralizzazione di un bel niente. Forse fossimo a Roma, qualche centralizzazione, o a Firenze, potrei anche dire giù, da un quartiere all'altro prenderanno l'autobus. Da noi sta roba. Non si può fare. È semplicemente una volontà di dare centralità e forza all'area amministrativa o giuridica. Detto questo, il 2017 che cosa ci porterà? Qualche lista di attesa più corta? Dunque, le liste di attesa sono un nostro precisissimo target. Laddove il medico prescrive, lì ci deve essere la prenotazione. Se c'è una criticità, il cittadino non deve scoprirla con l'impiegato del CUP, la deve scoprire lì, in quel momento, e chiedere al dottore se è una criticità oppure no.